Musica Buonasera, ben ritrovati a Primus Interpares dopo le vacanze estive. Noi siamo ritornati, ci saremo tutti mercoledì, soprattutto con il sindaco di Padova Massimo Bitonci. Voi come il consueto da casa potete mandare l'email, potete scrivere, potete passare una serata con noi, soprattutto per conoscere in maniera approfondita tutte le problematiche della città di Padova con il sindaco Massimo Bitonci. Buonasera, buonasera direttore, buonasera a tutti. Comincio con il lei poi così. Come è andata la vacanza? Sta bene? Sì, abbastanza. Sono tornato per il funerale di padre Poiana, insomma, poi io avevo anche un rapporto di amicizia. Mi fermavo, andavo spesso a mangiare per parlare con loro, anche con i frati. Infatti adesso, nei prossimi giorni, tornerò anche da loro. Mi è dispiaciuto moltissimo, anche come è successo, insomma, così improvviso. Quindi sono tornato, ero all'estero, ho trovato per fortuna un volo e sono tornato. Dopo non c'era subito un volo di ritorno, quindi aspettavo tre, quattro giorni. Però, insomma, sono cose che si fanno perché non potevo assolutamente non essere presente alla celebrazione di un funerale di una persona così importante per i padovani e per la città. Insomma, mi è veramente dispiaciuto, ecco. Questo ci fa capire che siamo veramente di passaggio, eh? Perché una persona come lui, uno specchio della salute, che si butta in acqua e gli viene, insomma, un infarto così grave da morire in pochi minuti, insomma, fa pensare che tante preoccupazioni, tante cose. Ma finché si vive, uno non si rende conto, poi bisogna provare a essere ammalati oppure... Il pensiero va a tutte quelle persone invece, magari, che durante il giorno presi dai nostri problemi quotidiani, invece non ci rendiamo conto di tutte quelle persone magari che sono in ospedale o a casa, che soffrono, tanti anziani. Io ieri sono stato alla festa dei centenari a Forcellini, a Civitas Vite, insomma, bravissima a organizzare questa festa, a cui abbiamo collaborato anche noi come amministrazione, dando la disponibilità anche di farla anche all'aperto in strada, quindi aprendola al quartiere, visto che è proprio inserito all'interno del quartiere Forcellini, e pensate che c'erano 17 ultracentenari e c'era una signora di 107 anni, mi sono avvicinato e gli ho chiesto qual era il segreto, se mi prestava un po' di DNA, perché... E qual è il segreto? Mi ha detto, se ha vita ordinata. È vero. Così mi ha detto, la vita ordinata. È vero, però oggi c'è uno stress che è difficile fare una vita ordinata. Io non ci arrivo, è sicuro. No, è difficile fare. Mascio, prima di andare nelle programmatiche della città in vacanza, hai pensato alla città di Padova oppure hai detto, cerco di liberare la mente e di fare... Tutti i giorni. Tutti i giorni. E qual era? Il problema è di avere che in tutti i posti dove vai comunque c'è internet, c'è comunque Whatsapp, c'è comunque telefono, quindi in realtà anche se sei in vacanza è tutto un... Qual è la cosa che si lava di più? Guardare quello che succede, i problemi, le... Qual è la cosa in vacanza che ti assilava di più nel non essere presente nella tua città da primo città? Ah no, dopo devo dire insomma che avendo dei validissimi collaboratori, assessori, i problemi assolutamente non ci sono stati, tanto che sono ritornato io volontariamente per appunto perché è mancato padre Poiana, se no insomma... Per esempio l'assessore Sai è sempre stato presente perché ha deciso poi di farle dopo un po' di ferie, anche l'assessore Mosco, il vice sindaco che ha fatto una settimana dopo, quindi insomma ci siamo anche un po' alternati come è giusto che sia. Poi in realtà il sindaco, e questo l'ho visto in tutti gli anni, anche in esperienze precedenti, può fare un periodo di ferie solo nelle due settimane centrali di agosto, di ferragosto, perché sono quelle dove c'è un calo evidente delle presenze in città e anche delle tematicità più... più... quindi insomma sono quei 15 giorni dove effettivamente insomma si può anche fare un po' di operatività di vacanza. Abbiamo molti temi questa sera, dall'Arcella al Plebiscito, alle Rotonde, alle Case Ater, alle Iene, perché tratteremo anche le Iene, visto che ieri è successo un pandemonio in piazza Garibaldi, quindi cercheremo di trattare un po' tutti i temi della città di Padova, che sicuramente sono temi molto importanti appunto per chi ci vive. Allora iniziamo proprio a parlare del quartiere dell'Arcella, che è un quartiere caldo, uso questo termine, perché ci sono davvero delle problematiche. Andiamo a vedere il servizio, poi lo commenteremo. Ha suscitato le proteste dei diretti interessati l'ultima ordinanza dell'amministrazione, che riguarda le attività commerciali, alimentari e non situate nella zona Prima Arcella. Nello specifico, a distanza di un anno, si allarga l'area nella quale i locali che somministrano cibo d'asporto e non solo, sono obbligati a chiudere alle ore 20. Inizialmente era finita nel mirino anche la libreria Limerick di Via Tiziano Asfetti, che in seguito ha chiesto ed ottenuto una deroga. Le due titolari, Marta Bracciale e Grazia Raimondo, potranno infatti continuare a tenere aperto fino alle ore 21 da lunedì a venerdì, sabato e domenica a passare invece le serrande alle ore 22.30, come prima dell'entrata in vigore dell'ordinanza, continuando a svolgere quindi attività culturale e ricreativa in concomitanza con gli spettacoli dell'antiguo cinema Astra. Intanto gli altri titolari di attività della zona sono pronti al ricorso contro un provvedimento voluto per combattere il degrado e in favore della sicurezza e della vivibilità che impone il coprifuoco serale nel momento in cui quelle attività lavorano maggiormente. Seguiti dall'avvocato Marco Cinetto chiedono una sospensiva del provvedimento che sostengono essere viziato da problemi tecnici e sostanziali e per sostenere le spese legali per il ricorso, gli esercenti hanno in programma una serie di eventi di raccolta fondi. Il primo svoltosi proprio ieri fuori dalla sede di ADL in Via Toti. Il quartiere più ricco di abitanti di Padova è un quartiere che ha molte problematiche, Massimo. Si possono risolvere in parte, tu hai fatto le ordinanze, ma si possono risolvere in modo tale che i cittadini camminino anche la sera tranquilli in quella zona di Padova? L'Arcella è un quartiere, l'abbiamo detto anche altre volte, che ha dei temi legati anche all'immigrazione e all'integrazione di una certa complessità. L'abbiamo visto nelle immagini, mi pare, no? Certo. Persone che passavano, insomma, mi pare molto chiaro. Nell'Arcella ci sono il 30% di cittadini stranieri, con tematiche legate anche allo spaccio e al degrado anche urbano. E proprio per quello abbiamo deciso una scelta, insomma, molto importante, che è stata quella di posizionare una nuova sede decentrata della Polizia Urbana, quindi attuando quel progetto del vigile di quartiere, che era sempre rimasto, diciamo così, nel cassetto, tutti ne parlavano, però nessuno l'aveva fatto. Invece noi, sia alla Guizza che all'Arcella, abbiamo deciso, affittato dei locali, stanno facendo i lavori, verso ottobre apriremo quindi questa nuova sede decentrata con 50 agenti, perché io penso che il deterrente più importante sia quello della presenza quotidiana di agenti della Polizia Urbana, che assieme alla Polizia e Carabinieri, passeggino, siano presenti nel territorio. Il tema delle ordinanze, anche questo è un tema, direi, molto importante, gli effetti dell'ordinanza di chiusura alle ore 20 in stazione ha avuto dei riscontri molto positivi, molto positivi, quindi abbiamo voluto estendere la stessa ordinanza anche nei confronti di alcune attività che stanno creando e hanno creato grosse problematiche, soprattutto nelle ore serali, oltre alle 20, e sono i famosi kebab, va bene, e i famosi money transfer, e altre attività dove c'è una concentrazione molto alta, soprattutto davanti e all'interno, dove sono stati anche combinati alcune sanzioni e commessi dei reati, all'interno di attività che purtroppo portano con sé questo tipo di problema legato al degrado cittadino. Quindi abbiamo esteso l'ordinanza in alcune zone della città, in Prima Arcella, ma anche in altre zone della città, e monitoriamo gli effetti positivi di questo. Nell'ordinanza, nelle maglie ordinanze, è cascata anche qualche attività che nulla a che fare con questo, dopo tutto non era facile escludere a priori. Quindi è stato per esempio il caso classico della libreria, ma adesso sto che sta arrivando anche qualche altra richiesta di deroga che valuteremo una per uno. Questa della libreria, che io subito lunedì mattina ho mandato gli agenti della Polizia Municipale a favorire, diciamo così, la richiesta di deroga, perché in effetti nulla a che fare con queste attività, che è prontamente arrivata da parte dei gestori della libreria, e quindi io poi ho firmato la deroga, perché insomma la libreria, poiché fa anche attività di tipo anche ricreativo e così culturale, insomma invece è un fattore, diciamo, positivo, e non viene frequentato, e cerco da questa gente che frequenta altri tipi di attività che portano invece degrado. Ecco, quindi questo è un tema che stiamo affrontando in parecchi quartieri, in parecchie zone. Devo dire che i dati in realtà sulla criminalità Padova e sui reati sono dati positivi, negli ultimi due anni molto positivi, dati che non ho voluto far emergere io, ma è stata direttamente la Questura e la Prefettura che anche in recente conferenza stampa hanno dimostrato il calo vertiginoso di alcuni reati, ma infatti se solo i padovani pensano alle spaccate di due anni e mezzo fa nei negozi, non c'era sera dove non si leggeva poi nei quotidiani. Però c'è sempre un po' la paura di camminare in quella zona, c'è anche i giornalisti che hanno mandato, soprattutto le giornaliste hanno detto «Io da solo non ci vado». È una zona dove, come dicevo prima, col fatto che vive una certa quota di popolazione e viene frequentata purtroppo da gente che perpetua questa cosa dello spaccio degli stupefacenti, è una zona che va tenuta continuamente sotto controllo. Io chiedo ai cittadini che ci seguono anche stasera di continuare a fare le segnalazioni. A brevissimo sarà anche attivo il WhatsApp del Sindaco, oltre a quello legato alle manutenzioni, ma quello legato più ai temi della sicurezza o delle segnalazioni anche di altro tipo, o del fatto di voler anche solamente comunicare o salutare il Sindaco. Quindi ci sarà anche quello. Quindi continuate a segnalare, i mezzi ci sono, si può telefonare alla Polizia Urbana, c'è il sistema anche del WhatsApp, ci sono le mail. La mia mail che io do anche stasera, che è massimovitonici.gmail.com, è sempre attiva. Come vedete io cerco di rispondere a tutti, di notare gli uffici. Cioè stiamo lavorando tutti, assieme agli assessori, perché la comunicazione anche attraverso il sito sia estremamente efficiente e immediata. Ma ritornando, e questa è una bella cosa, ritornando invece all'Arcella, l'arrivo di rinforzi di ordine pubblico, ovviamente, vigili, oppure anche l'esercito, potrebbe migliorare la stazione? Potrebbe far sì che questo quartiere importante della città sia un po' più tranquillo? Ma io penso di sì, dopo c'è tutto un tema legato a Piazza Azzurri d'Italia, nel senso che l'amministrazione ha fermato il vecchio progetto delle Torri Gregotti, in cui è stata realizzata solamente una, è rimasta tutta una zona, direi, su cui l'amministrazione sta facendo dei ragionamenti con i proprietari delle aree per vedere se si riesce a ripartire con un progetto, ovviamente non con quello del tempo, ma completamente diverso per riqualificare quell'area. Abbiamo messo gli occhi sull'ex CONI, la stiamo trattando per un eventuale acquisto, è proprio là dove noi vorremmo fare questo centro cittadino, dove ci sarà la sede definitiva, diciamo così, della Polizia Municipale e altri tipi di attività legate comunque al quartiere. L'ex CONFIGLIACCHI è un'area, diciamo, anche quella che è in vendita, direttamente dal CONFIGLIACCHI, speriamo sempre che qualche privato voglia interessarsi di quello, ci sono molti fabbricati in area a cella che sono messi in quelle condizioni, noi pensiamo di intervenire su Piazza Azzurri d'Italia. Per quanto riguarda i fabbricati prospicenti in Piazza Azzurri d'Italia, all'ex CONI, che è tutto quel blocco di fabbricati di proprietà comunale, però in gestione dove c'è il fruttivendolo, dove c'è quello che vende attività commerciali, è già iniziato i lavori di ristrutturazione, quindi quella parte là verrà tutta completamente ristrutturata. Sul Colbacchini stiamo approvando il progetto esecutivo, quindi che andrà in gara, della sistemazione dello stadio con le otto piste d'atletica, con i spogliatoi, con la tribuna, con l'estimazione del parcheggio, quindi stiamo lavorando sulla cella perché il tema del degrado è un tema legato anche all'urbanistica, e quindi legato anche alla riqualificazione, non solo con agenti e con la presenza, il deterrente della presenza degli agenti della Polizia Municipale, e agenti di Polizia e le volanti notturne e così, ma anche che se si rende più bello un quartiere o la città, comunque si illumina, si mettono telecamere, il degrado comunque migliora. Sicuramente, staremo a vedere perché i cittadini hanno segnalato appunto questa problematica, quindi speriamo che il sindaco riesca… Sono tante cose che sono in corso, ovviamente chi ci ascolta deve capire che i due anni che sono passati sono passati programmando e cercando di far partire le opere pubbliche che partiranno quest'anno e il prossimo anno, perché allora per un'opera pubblica ha questo tipo di vita che è… bisogna individuare il progettista, lo si può fare solo attraverso una gara, quindi bisogna fare una gara per individuare il progettista, dopo il progettista deve fare il progetto, e quindi il progetto preliminare, progetto definitivo, progetto esecutivo. Il progetto esecutivo è quello che va in gara, quindi bisogna fare la gara, la gara, sapete che il nuovo codice di appalti non ha semplificato, quindi la gara, sono mesi per la gara, vince una ditta, se tutto va bene, non ci sono ricorsi, quella ditta deve iniziare ed eseguire i lavori, che ha un termine. Quindi dovete capire che quando si comincia a ideare un'opera pubblica e quando dopo la si vede finita, passano tre anni. Questa è la realtà del tempo. No, ma su questo Massimo non ce ne piove, l'unica cosa è brutta vedere… Abbiamo fatto le corse per la stanga, perché lì i termini sono stati accelerati, ridotti al massimo, per cui siamo riusciti a concludere adesso i lavori, e quella è un'opera pubblica che sta andando. Abbiamo fatto le corse per i tetti della fiera, perché se no là ci scappava la fiera. Abbiamo fatto le corse per altri, adesso settimana prossima approveremo il definitivo di Piazza Rabin, quindi anche quella è un'annosa questione, ferma, dieci anni… Fermo, la fermo su Piazza Rabin. Io vado spesso in Prato della Valle, è poco illuminante, non si può cambiare quell'illuminazione, quelle luci che mi fanno tristezza nel vedere in una piazza così bella, Massimo, renderla un po' più luminosa, renderla… quello che vale è quella piazza lì. Io penso che partendo da Piazza Rabin, quindi dove i lavori partiranno immediatamente, perché ovviamente i proponenti, quello era un vecchio project che si era fermato per anni, dove era previsto anche un parcheggio sotterraneo, che i padovani non volevano ed è stato stralciato, dove verrà riqualificato il frontone, la piazza è dietro, nel progetto c'è anche l'estimazione del Monti, della Piani, ecco, quindi si va a riqualificare tutta la zona. Scusate, ma se ci vuole tutto quel tempo che dicevi prima nella varia burocrazia che c'è qui in Italia, l'illuminazione rimane sempre quella, non si può un po' illuminarla di più momentaneamente? Partiamo da Piazza Rabin, dopo faremo anche questi progetti di illuminazione. Chi ci ascolta avrà già visto che sono partiti lavori di riqualificazione e illuminazione della città per parecchi milioni di euro, quindi li vedrete perché li vedrete nei quartieri, come le asfaltature dei marciapiedi, ieri ero a Forcellini, è una delle lamentele principali, ovviamente degli anziani, delle persone che camminano nei marciapiedi, erano i marciapiedi, ma io ho avvisato che i lavori stanno partendo adesso, quindi vedranno marciapiedi, sistemazioni, asfaltature in corso, quindi su Piazzale Boschetti, per esempio, come raccontavo, approveremo il progetto esecutivo a breve, e dopo i lavori partiranno a marzo del prossimo anno, perché i tempi sono ovviamente questi. Quella è una cosa che mi affascina personalmente. Quindi ci sono tante cose che sono in corso, che stanno partendo, e che vedrete parecchi cantieri in città, anche per esecuzione di opere di manutenzione, sfalcio del verde, sistemazione di strade, rotatori e sui dossi abbiamo fatto quel progetto importante di cambiare un po' il sistema, quindi fare strisce pedonali illuminate, con i led e con intensità di luce, quindi abbiamo visto che in Germania funziona bene, l'abbiamo portato a Padova. C'è molte cose da fare, l'unica cosa che era magari momentaneamente, finché Piazza Arabi non verrà sistemata, di avere un po' di illuminazione, era la piazza più bella di Padova, perché lì davvero tanti turisti che ho sentito nel passare dicono mamma mia che buio. Anche se i padovani si rendono conto che rispetto al degrado dello spaccio che c'era su Prato-la-Valle negli scorsi anni, la situazione che abita lì sa che è completamente cambiata, perché adesso la gente va per camminare, la gente va per andare sui pattini, la gente va per correre, la gente va a portare fuori gli animali, cioè è diventata molto più viva rispetto a una volta, era il centro dello spaccio della città. Però un po' più di illuminazione, ma se ho prima ancora di Piazza Arabi, magari quella è un po' più facile. Accettiamo ovviamente proposte e consigli. Magari qualche sponsor che dica illuminiamo un po' la piazza, il Prato-la-Valle, finché magari non viene. È un'idea così che mi verrebbe. Abbiamo acquisito uno sponsor importante invece a proposito di illuminazione per quanto riguarda la Cappella degli Scrovegni. Abbiamo chiuso un contratto con una ditta che ci farà una sponsorizzazione, quindi farà un'illuminazione tutta molto particolare ed efficace. Quindi anche qui, anche noi le sponsorizzazioni continuiamo a cercarle, no? Anche a proposito della Cappella degli Scrovegni devo fare i complimenti perché qui a Padova c'è... Ci sono dei lavori su alcuni dei Scrovegni che vanno avanti. È vero, nei musei. Io siamo stati a un convegno proprio sabato scorso, il Museo delle Limetane, qualcosa di straordinario. Io credo che i padomani davvero non lo conoscono perché meriterebbe di essere... C'erano molti turisti ma dovrebbe essere visitato di più perché davvero non ha qualcosa di... I dati sul turismo sono molto positivi, questo l'abbiamo detto anche l'altra volta. Anche qui non lo diciamo solamente noi ma anche le categorie. I dati della presenza negli alberghi lo stesso sono positivi quindi insomma in due anni molte cose sono state già fatte. E nel crescere adesso andiamo a parlare invece di rotonde perché le rotonde ormai il fagiolo ha fatto storie qui a Padova so che ne volete mettere da molte parti andiamo nel sottopasso di Montà dove si sta lavorando per... non so a che punto sono i lavori però c'è la rotonda di Via Bezzecca e ci sono altre rotonde secondo me che avete idea di farle. In Via Le Coda Lunga c'è una serie di rotatori e direi molto importanti quella è una cosa che ho voluto io proprio mi sono quasi impuntato su questo progetto perché è impossibile è una porta d'accesso alla città ci sono tutti questi semafori è una cosa veramente incredibile. Ecco qui stiamo vedendo proprio l'immagine fra poco vedremo anche il sottopasso di... Siccome lo spazio c'è come i padovani insomma sanno benissimo che lo spazio c'è c'è già quasi un sistema rotatorio disegnato però ci sono i semafori qui ci saranno tre rotatorie quindi scendendo da Cavalcavia a Borgomagna si troverà prima una grande rotatoria poi sempre più piccole e saranno tre e quindi anche qui cancelleremo cancelleremo i semafori e anche alcune situazioni di traffico insomma cittadino soprattutto con le code che si formano in mattinata e nelle ore serali. Ecco il sottopasso di Montà poi mi sembra che la spesa sia carico del... non è carico del Comune è carico di Ferrovie di Stato noi stiamo seguendo ovviamente i lavori i lavori procedono vedrete che il prossimo anno riusciremo a inaugurare sono rimasti fermi per un periodo di tempo stiamo avendo la coda proprio fatalità la coda perché sta passando ovviamente il treno è qui però qui diciamo uno passa non si vedono i lavori però si stanno facendo insomma i lavori per quanto riguarda questo compasso certo perché è collaterale è laterale rispetto all'attuale passaggio che ovviamente è un passaggio molto trafficato e quindi il passaggio di livello rimane chiuso per una buona parte della giornata quindi era un'opera necessaria lì stiamo ragionando anche con un proponente perché sapete che è arrivata una è arrivata una proposta e gli uffici ci stanno lavorando da parte di una grossa catena del bricolage stiamo lavorando anche su un progetto di viabilità quindi un sovrappasso quindi il sottopasso di via Bezecca sarà collegato anche con un sovrappasso su Corso Australia per migliorarne anche la viabilità e il collegamento con tutto il quartiere di Montà Montà che diciamo così che è un po' scollegato perché ovviamente la viabilità di Corso Australia è una ferita ovviamente nella città che separa completamente il quartiere dal resto della città Quando sarà pronto questo sottopasso Massimo? Il prossimo anno dovremo inaugurare c'è stato un certo un certo ritardo però io penso che verso la metà del prossimo anno dovremo riuscire a inaugurare quindi a cominciare insomma a far passare le macchine Finalmente verrà tolto quel passaggio a livello che il passaggio a livello verrà chiuso che qui creava grandi problemi quindi la zona diventerà poi insomma una zona una via chiusa io penso che questa sia un'opera veramente molto positiva per la città Ecco al di là delle rotonde che abbiamo detto in Viale Codalunga ovviamente in Viale Bezzecca anche nella zona industriale dove ci sono dei semafori vicino alla Usance ci faranno delle rotonde e hanno messo in preventivo anche quelle Massimo? Sì sono previste delle rotatorie lo stesso per eliminare i semafori in corso Stati Uniti stiamo realizzando e chi passa per corso Stati Uniti sta già vedendo che stiamo impostando anche la via impostato la rotatoria che ha già degli effetti molto positivi su Ponte Vigo d'Arzere per completare il discorso stiamo chiudendo un accordo con la curatela per eseguire noi i lavori di una viabilità per stappare la viabilità su Ponte Vigo d'Arzere anche là con un sistema rotatorio che abbiamo progettato noi ma realizzeremo una parte della viabilità che doveva realizzare questo privato che però ha una procedura concorsuale in corso ma noi realizzeremo noi e dopo lo adibiteremo alla procedura concorsuale in accordo con il giudice e quindi anche qui su Nord quindi Ponte Vigo d'Arzere Nord stiamo studiando in collaborazione anche con gli comuni di Vigo d'Arzere e Cadone che adesso vedrò ho già sentito e visto il sindaco e il vice sindaco di Vigo d'Arzere Rodolfo Zordang e il dottor Zanovello per quanto riguarda la viabilità ma sentirò anche il sindaco di Cadoneghe per trovare un accordo anche su assieme su Ponte Vigo d'Arzere sul Bassanello per chiudere poi l'intervento anche lì stiamo progettando e vedendo come riuscire a risolvere il nodo del Bassanello cioè tutti i nodi del traffico sono sotto una alla volta per un investimento molto importante molto importante l'arco di Giano cioè il completamento dell'arco di Giano è finanziato siamo alla progettazione definitiva approveremo entro ottobre l'esecutivo con un importante finanziamento sia nostro che della regione sono più di 5 milioni di euro di finanziamento anche là quindi verrà completato inizieranno i lavori il prossimo anno per quello vi dico ci saranno forse un ingorgo di cantieri forse che cominceranno dalla fine di quest'anno al prossimo anno però bene così perché la città va svecchiata tante cose hanno rimaste ferme vanno fatte e quindi penso che i cittadini porteranno pazienza se ci saranno dei disagi relativi o come è successo con la rotatoria della stanga però dopo alla fine l'importante è vedere l'opera finita io sarò pedante però non vedo l'ora di vedere Piazzale Boschetti quello è un lavoro che Piazzale Boschetti l'ultima volta ne avevamo parlato ho visto il progettista proprio 15 giorni fa ho pubblicato anche un rendering insomma un rendering interessante dove verrà 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 reso più scosceso l'argine in modo riportato come era una volta verrà ripristinato il porto il porticciolo che c'era verrà ripristinata il passaggio la stradina dove passavano i carri che portavano il carbone ecco quindi è stato fatto uno studio storico anche di come era una volta verrà ripristinata la spiaggia quindi tornerà qualcuno si è messo a ridere però verrà ripristinata la spiaggia quindi la parte anche diciamo così dove si potrà prendere anche il sole ecco a Padova quindi la novità ci sarà l'attacco per le barche ci sarà una grande vela che unirà i due fabbricati in stile Liberty una grande vela che sarà una copertura molto leggera inizialmente era stata pensata una tensostruttura un po' più importante che andava a coprire anche fino via Trieste poi con il progettista abbiamo siamo resi conto che era una struttura abbastanza imponente rispetto ecco quindi è un po' più delicata sotto si potranno fare i concerti ci sarà una piastra quindi per concerti per attività e il resto sarà tutto verde quindi ho chiesto pochi elementi illuminato sarà tutto illuminato tutto illuminato e sulla parte sotto dei fabbricati ci sono già delle abbiamo già avuto delle offerte qualcuno era scettico diceva ma non si presenterà nessun privato invece abbiamo già due privati interessati perché sapete che l'amministrazione ha previsto al piano terra attività legate al parco e quindi bar ristoranti e così mettete nella parte superiore sono previsti appartamenti per turisti io ho sempre il faccioletto copiato marzo del prossimo anno marzo del prossimo anno e Massimo tempo fa io ricordo che avevi detto piazza insurrezione mi piacerebbe diventarsi come convegare da Londra c'è ancora questa idea o un'idea tramontata? stiamo lavorando molto su questo progetto stiamo chiudendo un accordo con col Demanio i cittadini sanno che il Prandini è stato liberato da campo profughi diciamo così clandestini è stato liberato e quindi si è riaperta la trattativa con il Demanio ho incontrato la sopretendenza a Venezia perché molti cittadini magari non capiscono le difficoltà di tutte le cose che si affrontano dove anche la sopretendenza vuol dire la sua su qualsiasi tema giustamente ho incontrato a Venezia il sopretendente capo per il vincolo dei fabbricati del Prandina quindi è venuta la sopretendenza archeologica a vedere tutti i fabbricati e adesso darà l'ok per quelli che potranno essere demoliti e questo è prodromico al fatto comunque che noi acquisiamo la zona per farci parcheggio ho sentito l'APS parcheggi o per i servizi che sta presentando il progetto per il parcheggio del Prandina realizzato il Prandina con l'apertura su Corso Milano noi daremo il via libera alla chiusura di Piazza Insurrezione dalla chiusura di Piazza Insurrezione parte il progetto del Covent Garden tutte queste cose non riuscirai o per lo meno prima del termine di questo mandato anche se io credo che tu ma io penso che cosa vedranno i cittadini io penso che una buona parte di queste opere si vedrà si vedranno la luce anche i lavori con la fine di questo mandato altre opere può può darsi che si veda l'inizio dei lavori e magari la fine dei lavori dopo qualcosa di più complicato magari la progettualità e non ancora l'inizio dell'opera però insomma qualcosa diciamo che il cittadino vedrà sulle proposte io penso le opere viarie la maggior parte in questo mandato non posso non parlare che sono importantissimi Boschetti tutto in questo mandato Piazza Rabin tutto in questo mandato Colbacchini tutto in questo mercato tutto registrato il plebiscito tutto nel prossimo anno non neanche in questo mandato nel prossimo anno Ponte Vigo d'Arzere Sud tutto in questo mandato le mura il primo stralcio 6 milioni di euro illuminazione completa di un milione e mezzo gli altri 4 milioni e mezzo in questo mandato perfetto apertura di Castello di Cararesi con questo mandato con una parte che diventerà mostra quindi aperta al pubblico in questo mandato ci sono tante cose che vengono fatte e ci siamo poi ce le notiamo tutte e farò una rivista sì ma probabilmente me ne sono dimenticate una cifra invece una che non posso non chiederti ogni volta che vieni a trovarmi in questa commissione che apparevo questo è l'ospedale di Padova perché questo è l'unico dubbio che magari mi viene che questo io ho parlato con qualche tua sora abbiamo lavorato tutta l'estate prima il termine del mandato viene posato io qualche dubbio ce l'ho tu me l'hai sempre smentito abbiamo lavorato tutta l'estate per chiudere le posizioni che c'erano aperte cioè il deposito del piano di lottizzazione nuovo con la localizzazione delle aree da cedere al comune abbiamo lavorato con l'università e i tecnici e la regione per chiudere tutto il tema legato al contenzioso vecchio quindi vecchio project e così la regione sta lavorando insieme al comune ma c'è una domanda un po' più senti in sintonia con la regione in questo? con la regione stiamo scrivendo stiamo scrivendo con la regione e l'università la bozza dell'accordo di programma che andrà in consiglio comunale in giunta e in consiglio dell'università e in consiglio provinciale e in cda dello Iov quindi il consiglio comunale di Padova dovrà dare la delega al sindaco di Padova cioè il sottoscritto a firmare l'accordo di programma dovremo andare entro fine settembre in consiglio comunale con la bozza dell'accordo siamo gli sgoccioli ed è capibile anche questo lo sai perché da che cosa dalla tensione diciamo così mediatica giornalistica che qualcuno fa apposta per cercare di mettere un inciampo su un progetto che ha già la sua strada il settore massimo nell'ascoltare il sindaco il primo cittadino di Padova per quanto riguarda l'ospedale è chiaro il sindaco dice l'ospedale si farà d'accordo con la regione siamo a un punto buonissimo le voci il mormorio che io te lo commento privendo la città invece dice vedrai che l'ospedale non sarà mai fatto qualche collega mi dice lo stesso allora il chiarimento di questa situazione è una cosa che vedrai che la rotatoria della stanga non funzionerà io colleziono le decine decine di articoli anche di professori devo dirlo anche di professori di gente che diceva di essere espertissima in viabilità che diceva che non funzionava ma anche di altri temi che non sarebbe mai stata chiusa l'operazione di Piazza Rabin che a Ponte Vigo d'Arzere non avremmo mai risolto il problema della viabilità e che cioè qualsiasi cosa è un mister no da parte ovviamente di una città che ha una certa complessità perché sono tutte cose che non ho creato io ma che ho ereditato che quindi sto cercando io sono uno ho detto nell'intervista anche di ieri che è stato riportato in tutti i giornali e televisione che io sono qua per risolvere i problemi cioè sono il sindaco di Padova che cercherà di risolvere problemi fermi da tanto tempo io sono qua problem solving per dirla in inglese per fare questo per sistemare erogne per dirla in lingua veneta e io quello sto facendo la mattina e la sera cioè quando quando ieri oggi è uscita il tema dell'aeroporto poi ne parliamo di Padova cioè io sono qua io sono andato a Roma ho parlato con il sottosegretario ho tenuto una certa cosa cioè io sto cercando di risolvere problemi di tutti i giorni ma oggi la città se domani almeno dall'indagine quindi sono anche un po' mi metto un po' a sorridere quando ho visto un mese intero di articoloni su gente che parla del futuro della città e sono le stesse che erano la prima cioè chi non era qua prima ero io no quelli che parlano del futuro della città erano quegli stessi che erano qua prima ma mi fa un po' ridere sta roba perché il futuro della città lo sto disegnando io insieme alla maggioranza certo non è che lo stanno disegnando chi fa gli articoloni ho visto anche ex sindaci così e mi viene da dire ma scusa ma voi che siete stati chi 5 di 10 anni così che non avete fatto una beata favona cioè ci si vuole coraggio a fare anche le interviste sul futuro della città voi la vostra occasione l'avete avuta e l'avete bruciata adesso un po' di silenzio e lasciate lavorare chi sta lavorando io credo che se domani Pado vorreste andare al voto credo che Massimo Bitonci il mio parere personale sarebbe rivoltato alla grande però dico anche nel definire il sindaco di Pado un uomo solo al comando perché stai lottando con tutti contro tutti per il bene della città non so se è una definizione giusta quella che ti sono diceva i pesi e i carichi e chi li porto non c'è problema non sono uno che non porta carichi questo fa onore io carichi li porto devo dire grazie anche a molti consiglieri comunali e molti assessori che lavorano in defessi dalla mattina alla sera perché dopo mi viene chiesto magari di rimuovere anche qualche assessore e robe così ma gli assessori che lavorano bene vanno valutati vanno potenziati qualcuno l'ha rimosso ecco sì qualcuno l'ha rimosso qualcuno che se lo meritava è andato a rimosso è nella storia soprattutto il sindaco come ripeto il sindaco lo faccio io la gente ha votato una faccia ha votato un programma un programma che può anche essere disegnato qualcuno dice ma non c'era questa cosa nel programma elettorale ma sai quante cose che stiamo facendo che non sono nel programma elettorale cioè le tre rotatorie di Viale Codalunga non c'erano nel programma elettorale ma appena io ho detto questa mia idea che sta diventando realtà perché sta diventando un progetto esecutivo tutti i commercianti la gente che abitava là intorno ha detto ah ma che bella idea cioè però non c'era allora siccome non c'era nel programma elettorale non bisognava farlo plebiscito non c'era nel programma elettorale fermo tu ci arriviamo molte cose su plebiscito facciamo così mi anticipo il plebiscito andiamo a vedere il servizio del plebiscito andiamo a vederlo con il posizionamento dei seggiolini nelle tribune sono iniziati i lavori nello stadio del plebiscito destinato a diventare un impianto sportivo polivalente e soprattutto la nuova casa del calcio padova già per il campionato 2017-2018 il progetto di sistemazione e messa a norma prevede due stralci di interventi con un importo già stanziato dall'amministrazione di 3 milioni di euro sono previsti la messa in sicurezza delle due tribune esistenti la ristrutturazione dei locali sotto la gradinata ovest nonché la messa a norma degli impianti elettrici e meccanici la costruzione delle due curve e la realizzazione dei sistemi di videosorveglianza di pari passo saranno realizzate nuove aree parcheggio e sarà migliorata la viabilità di tutta la zona che da sempre costituisce un problema per l'intera città il secondo stralcio realizzabile in un secondo momento grazie all'eventuale intervento di privati prevede la realizzazione dell'anello a unione delle gradinate e la copertura realizzata in una struttura metallica rivestita da uno speciale materiale plastico su cui si potranno proiettare nomi e loghi di eventuali sponsor che così facendo legheranno il proprio nome all'impianto un progetto fattibile quanto affascinante per ogni tifoso padovano ma che suscita perplessità nei residenti dei quartieri limitrofi allora andiamo con ordine ovviamente se viene un gioiellino come quello abbiamo visto chiuso e viene fuori un capororo uno Massimo non può dire di no anche se c'è qualcuno che non testa a un'opera del genere non può dire di no le perplessità sono altre sono i cittadini che stanno facendo la realizzazione cosa se ne farà dell'eugano ma cittadini tra virgolette perché poi mi sembra una cosa molto più politica che è legata ai cittadini perché che senta cittadini che mi vengono a dire del plebiscito ne ho senti veramente pochi che ho visto contestazioni programmate sì è vero ci sono contestazioni programmate da parte del PD e da parte di qualcun altro c'è una cosa con le pentole che fanno sabato in centro con i pentoloni ci sono volantinaggi però è tutta una cosa politica ma per carità lecita cioè lecito io chiedo solo una cosa aspettate di vedere perché tanti i lavori non verranno interrotti cioè il sindaco di Padova Massimo Bitonci non è un maleducato arrogante che come qualcuno vuole cioè io sono stato votato per decidere non per stare qua tanto a come è successo anni passati a fare tanti comitati contro tutto e tutti per il bene della città ma contro tutto su plebiscito no plebiscito parlo in generale adesso non mi pare no no su altre cose dove mi accorgo parlo in generale Massimo su altre cose dove mi accorgo che il taglio va cambiato non ho nessun problema qualcuno si diverte a scrivere ogni volta retromancia ma io non sono per maloso cioè non ho il problema se scrivono o se dicono retromancia se mi accorgo che le biciclette vanno bene in centro storico va bene in centro storico cioè fa parte del lavoro del sindaco dire sperimentiamo una cosa e dopo se non funziona la modifichiamo cioè solo le cose la verità assoluta non ce l'ho in tasca neanch'io però che io voglia decidere che le cose vanno avanti vanno avanti una volta deciso che il plebiscito va sistemato anche perché era completamente inagibile cioè questo è il primo lavoro le seggioline di uno stadio che non poteva rimanere così la gente si faceva male cascava dai gradoni si faceva male le ringhiere le seggioline rifare le recinzioni rimettere a posto gli spogliatoi cioè sono cose necessarie su un impianto che era ormai abbandonato a se stesso e cosa serve un impianto dove si giocava una partita all'anno una partita si giocava solamente quando c'era perché alcuni anni è stato fatto da altre parti quando si giocava Petrarca con il Rovigo in casa adesso a ottobre il plebiscito a ottobre e poi a novembre ancora sarà teatro della sfida tutta veneta importantissima prima di Coppa Europa e quindi facciamo pubblicità e anche di campionato del Petrarca Padova contro il Rovigo che quindi con i seggiolini e quindi ce l'hanno richiesto perché sanno che lo stiamo mettendo a posto e perché a differenza di come dice qualcuno questo sarà veramente come detto nel servizio stadio polivalente sarà uno stadio però è difficile giocare il rugby il rugby si giocherà per alcune partite all'anno quindi dimensioni come si fa in tanti stadi quindi il Petrarca il Cus e il Valsugana hanno i propri impianti dove giocano anche le partite di campionato va bene quella loro tribuna lì si giocano le partite che hanno bisogno di più di 4-5 mila posti a sedere Padova giocherà sempre il Padova calcio giocherà sempre ho voluto io perché in una dei rendering c'era scritto anche sui seggiolini Padova calcio ho voluto io che fosse scritto Padova perché quello è lo stadio di Padova non è lo stadio del Padova calcio o del Petrarca rugby va bene è lo stadio di Padova quindi la scritta senza tanti simboli e invenzioni che c'erano prima è la scritta semplice la croce e faccio una prova che c'è il Padova calcio quando andrà a giocare lì il prossimo anno nella seconda parte del campionato andrà a giocare che non te la sei mai posta a prenderla così col beneficio di inventario e se non ci sarà più la società calcio Padova mi pare che abbiamo fatto i miracoli due anni fa ci siamo già trovati nella situazione il neosindaco di Padova Massimo Bitonci ci è trovato senza il calcio senza il calcio con alcune squadre diciamo così a livello dilettantistico e basta da un giorno all'altro dopo una lunga trattativa con i vecchi proprietari del calcio Padova che avevano promesso di versare le fiduzioni e di iscrivere il campionato cosa che non è stata fatta quindi dal domenica sera che ci eravamo sentiti a lunedì mattina Padova non iscritta al campionato in 4-4-8 la fortuna ha voluto che due imprenditori hanno voluto seguire questo inseguire questo sogno e si sono messi insieme col sindaco di Padova a iscrivere la società perché chi ci ascolta forse non tutti sanno che le città capoluogo hanno la possibilità di iscrivere una società al campionato di serie praticamente D di serie D che si chiama va bene Lega Direttanti Lega Direttanti lo può fare una sola volta lo può fare quando non c'è la società che si iscriva al campionato e questo perché la società capoluogo deve avere una squadra che non parte più dalla terza categoria ma parte da una categoria superiore e questo non ce ne piava si è vinto il campionato e quindi adesso si gioca una provocazione ti ho detto tu stai facendo e qui l'amministrazione non c'entra nulla stai facendo tutto bene lo stadio e ho fatto una provocazione ovviamente perché può succedere di tutto e se non c'è più il calcio Padova con questa proprietà cosa succederà secondo te se capiterà mi auguro una città come Padova non potrà mai rimanere senza una squadra di calcio peraltro l'impegno mi pare della società anche quest'anno è un impegno importante si sta lavorando molto anche sulle giovanili quindi io ringrazio sempre i soci che stanno facendo stanno impiegando risorse proprie l'amministrazione comunale gli sta andando incontro quindi insomma ognuno sta facendo la propria parte noi stiamo lavorando nel mondo dello sport direi in maniera molto forte perché dopo qualcuno critica ti chiedo è l'Euganeo quella cattedrale lì cosa verrà fatto l'Euganeo poi è arrivato questo vecchio progetto riesumato dal PD di tagliare le tribune diciamo così nord e sud e riavvicinarle alla pista d'atletica facendo scomparire la pista d'atletica poi è emerso che costava 10 milioni di euro cioè nel senso che forse forse probabilmente molto di più nel senso che la sistemazione del plebiscito e renderlo agibile e portarlo a 12.500 posti con le tribune nord e sud viene a costare un terzo rispetto a quel progetto l'Euganeo è uno stadio che rimane per i grandi eventi rimane uno stadio per i concerti rimane per i grandi eventi anche questi raggibistici ricordiamo i tre test match che ci saranno quest'anno e se te lo chiedi il prossimo anno se va in Serie A per poter venireci a giocare ovviamente noi ospicchiamo tutti una grande fortuna grande fortuna al Cittadella e anche al Padova io spero che in Cittadella che abbia ovviamente grande fortuna sta facendo un campionato eccezionale io penso che mai è successo una testa di classifica così tre partite con tanti gol però sta facendo bene anche il Padova quindi io spero che insomma sia una che le altre realtà padovane abbiano un grande successo anche quest'anno è successo che si meritano perché si merita il Cittadella con la famiglia Gabrielli che sta che sta facendo capire che quando tu in maniera seria onesta tu ti impegni nel mondo dello sport e lo fai senza secondi fini e la fai anche con risorse anche limitate si può sognare si può guardare avanti ma la stessa esperienza sta facendo il Padova perché il Padova sta facendo l'esperienza della famiglia Gabrielli con la famiglia Bergami conoscendo le due realtà scusate se ti interrompo il Bonetto se cita al di là del Padova io ho fatto la provocazione nel dire perché mi auro che il Padova rimanga ovviamente anche saga di categoria però se il Cittadella è prematuro però dovesse andare in Serie A e magari non può giocare al tombolato perché non è agibile per questa categoria e ti vengono e ti chiedono l'Eugano tu ovviamente sei disponibile Andrano è plebiscito probabilmente anche Cittadella anche Cittadella se hai uno stadio da 12.500 posti e sappiamo che la deroga in Serie A è 10.000 perché parliamo cioè la deroga in Serie A è 10.000 e sappiamo che le partite con le partite che si guardano in televisione con gli abbonamenti oramai che c'è un calo evidente un trend storico importante nella partecipazione della quindi la mandi a giocare anche Cittadella io non dico niente se non nasce un'altra polemica decideranno quello che voglio intanto mi auspico che auspico grande successo a tutte le squadre ovviamente della provincia di Padua di Padua della provincia faccio un esempio a Pescara l'altro giorno hanno giocato a Pescara Inter c'hanno 25-26.000 biglietti venduti perché lo stadio aveva quella con una richiesta di 40.000 se c'è un Cittadella Inter Cittadella Mila Cittadella Juve magari le richieste sono 20.000 andranno le Uo se dovesse esserci andranno le Uogane perfetto noi andiamo in pubblicità tra poco